Chirurgia della cataratta, la gestione premium del paziente e il titolo del corso che si svolgerà a Salerno il prossimo 1 luglio. Quali sono gli obiettivi del corso, dottore Scozia? Allora, innanzitutto gli obiettivi del corso sono quelli di avere un incontro con i vari colleghi oculisti che collaborano con noi e anche quelli che non collaborano. È un momento praticamente di confronto tra colleghi, occasione buona anche per poter presentare sul palcoscenico della oculistica questa lente, la MiniWell, che è una lente progressiva utilizzata nei pazienti che decidono nel momento in cui levano la cataratta, di operare la cataratta, di utilizzare questa lente e permette loro poi di non dover usare una lente correttiva e per lontano e per media distanza e per vicino. E poi avremo una parte estrettamente legata alla parte farmacologica che ha un'importanza non da sottovalutare. Noi infatti non dimentichiamo che al centro c'è sempre il paziente. Come viene trattato a casa prima dell'intervento e poi dopo l'intervento? Il paziente una volta che ha deciso di essere operato va preparato con una terapia locale, noi definiamo più specificamente triatopica, con dei colliri antibiotici che abbiano un ampio spettro e quindi possano preparare l'occhio nel modo più sterile, igienico, come lo si vuol definire possibile, in modo da avere un terreno non fertile ad eventuali insorgenze di patologie infettive preoperatorie e quindi poi successivamente postoperatorie. Una buona terapia fatta con sostanze farmacologiche adeguate comporta una risoluzione immediata di tutto quello che è lo stato infiammatorio del postoperatorio e anche una rapida e quindi immediata ripresa delle proprie attività, giustificando quindi mini-invasività, il nostro cavallo di battaglia con terapia farmacologica mirata. Grazie a tutti!